Buongiorno a tutti e benvenuti al terzo concorso nazionale di pasticceria Istituti Alberghieri d'Italia, dietato da pasticceri a tutti i giorni, edizione del 2024, un'edizione che può venire ancora più risuola, ancora più adrenalina, insomma vi invitiamo naturalmente a seguirci in queste due incredibili giornate. L'evento è organizzato dalla Federazione Internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria, in collaborazione con il Ministero dell'Istituzione e del Merito, naturalmente l'Izio A. Federico di Zeglia di Termoli, che ospita l'evento in questa terza edizione, e anche l'Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Interettive e Relazionali. Ma naturalmente l'ideatore, il promotore, il motore di questa iniziativa è il professor Moizio Sandilli, che ne ha già venuto in meravigliosi ragazzi. per, appunto, avere un futuro come campionato, con il mio caro di valorizzare l'arte dolciaria attraverso i talenti di questi meravigliosi ragazzi. Allora, l'evento, come ho appena detto, ha lo scopo di valorizzare le abilità degli alunni con piano educativo individualizzato provenienti dagli istituti albergieri di tutta Italia in un'ottica di inclusione e formazione. Una, due giorni sicuramente entusiasmante, in cui ragazze e ragazzi si metteranno alla prova realizzando un dessert innovativo con ingredienti di base provenienti naturalmente dal loro territorio di appartenenza. Prima di iniziare, quindi di entrare nel vivo di questa Kermess di competizioni con questi ragazzi fantastici, vorrei che introducesse la giornata padrona di casa, il dirigente scolastico alla professoressa Ettorina Tricotta. Eccoci qui, siamo pronti ad iniziare. È un momento per noi importantissimo, tanto atteso e per il quale davvero lavoriamo tutti da mesi. Questo concorso, vietato per acquistare i sogni, è il più grande evento scolastico dedicato all'inclusione. Come ha detto giustamente la dottoressa Fino, il concorso è realizzato con il MIM, con la Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelanderia e Cioccolateria, ed è presente tra le competizioni del Ministero per la Valorizzazione delle Eccellenze. Si ispira alla cultura dell'inclusione, che sono elementi fondativi della politica dell'istituto alberghiero, da sempre, da sempre. Questo è molto importante. La missione infatti del nostro istituto è quello di creare le migliori condizioni possibili per valorizzare i talenti di ciascuno e contrastare la discriminazione, ispirandosi ad uno dei principi fondamentali della Costituzione, il pieno sviluppo della persona umana in un contesto che promuova l'eguaglianza. È difficile esprimere a parole l'emozione, parole l'emozione che sente in questo momento, sente tutta la comunità scolastica del Federico e naturalmente anch'io che ho visto nascere questo evento proprio da quando era in parte embrionale e che ritrovo oggi come dirigente cresciuto fino ad assumere una valenza nazionale. Ci saranno in questi giorni personaggi importanti del settore della pasticceria a partire dai nostri giurati, saluti di ministri, assessori, le più alte cariche politiche militari, la direttrice dell'ufficio scolastico, ovviamente ex dirigente di questa scuola, la direttrice Maricetta Chinisso, l'orchestra del conservatorio con 50 elementi, ospiti a sorpresa. Ma ricordiamoci tutti che al centro di questo evento ci sono i team, ci sono i nostri ragazzi. Il loro entusiasmo ci emozionerà travolgendoci fino alle lacrime, come è già successo nella fase d'istituto, con i loro capolavori, il loro talento. È una competizione, domani ci saranno dei vincitori e dei premi, ma per tutti noi è già una vittoria oggi essere qui insieme. Un ringraziamento va ovviamente a tutte le scuole ospiti, oggi ne sono arrivata una parte, domani ne arriveranno altre. A tutto il personale di questa scuola che con grande abbringazione lavora da giochi per questo concorso, anche il personale ATA diretto ovviamente dalla nostra DSGA, Maria Rosaria Russo, dei docenti di cucina, sala, accoglienza, ovviamente al professor Santilli che è del sex macchina da sempre in questo concorso, al nostro vescovo che ringrazio per avere come ogni anno dato la sua disponibilità di inaugurazione. Vi ringrazio per la vostra presenza, saranno dei momenti bellissimi che condivideremo insieme e vi ringrazio per vivere questo momento insieme a noi. Grazie. 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 La benvenzione. Grazie per la benvenzione di questo evento a cui teniamo particolarmente. perché educare significa far venire fuori quello che c'è e scoprire l'altro non mettergli dentro delle cose poi ovviamente le tecniche sono da imparare educazione è far venire fuori è proprio dentro il sogno è proprio questo proprio perché ognuno è unico è irripetibile ecco, questo è il sogno che Dio ha su di noi c'è fatti unici e irripetibili è in relazione tra noi ecco, allora questa è un'esperienza il sogno in questo caso diventa un'esperienza quella che noi rassumiamo sotto la parola inclusione ecco, ma è proprio il sogno di Dio l'inclusione perché ci vuole tutti i figli tutti e tutti unici non copie l'uno degli altri e questa unicità è quella che è non quella che pensiamo noi non c'è la normalità c'è l'unicità di ciascuno e qui dobbiamo fare ecco, dei passi in questo senso, no? perché noi ci facciamo sempre degli schemi e allora non posso mancare o non rispondere a questo invito perché questo è un luogo benedetto dove l'inclusione, no? questa unicità e questa, diciamo, viene sperimentata e vissuta io l'anno scorso ho visto dei volti soprattutto nella relazione tra i ragazzi con disabilità e chi ti accompagna, no? delle cose che ti fanno ti fanno vedere un altro mondo però se c'è vuol dire che è possibile e allora dobbiamo vedere quel mondo che c'è che è possibile per farlo di tutto di tutti ma se è possibile un giorno e mezzo è possibile sempre dipende da noi ecco, perciò non carpestare i soldi, no? e su questo invoco proprio insieme a voi la benedizione del Signore che questo è già un fatto benedetto raccogliamo questa benedizione come impegno della nostra vita ci raccogliamo un momento in silenzio così ognuno esprime e poi diciamo, se volete, insieme a fare uso alle nostre persone e alle nostre persone che sui amici stavamo Nasci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri piedi, come anche noi che rimettiamo i nostri seguitori. E non la stava nasce alla tentazione, ma non la lasciamo male. Il Signore benedica, vi custodisca il suo cuore, faccia risplendere sul cuore il suo cuore e vi doni la sua pace e la benedizione di Dio dei potenti, Padre, Figlio e Spirito Santo, riuscendo su di voi e con te la mia casa. E grazie, grazie di questo cuore. È venuto che si promuovete e accompagnate. Grazie. Grazie per la domanda, per la domanda, per il preciso e le parole tutte per l'evento giusto. Allora, è giunto il momento invece di mandare in onda il video, il video messaggio della Ministra di disabilità, Alessandra Locatelli. Buongiorno a tutti i ragazzi, gli insegnanti, le famiglie, tutti coloro che partecipano a questo bellissimo torneo, un momento di confronto tra studenti, ma anche una grande dimostrazione di attenzione a tema dell'inclusione e dell'eccellenza culinaria. Un saluto e un ringraziamento quindi a tutto l'Istituto Professionale di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera Federico di Svevia. Grazie naturalmente al Ministero dell'Istruzione del Merito, che ospita questo concorso importante, ma grazie anche alla Federazione Internazionale di Particceria, Gelateria e Cioccolatteria, che è parte di questa bellissima iniziativa e alla dirigente scolastica, Littorina Tripò. Davvero però, io ho sentito ringraziamento, ma ognuno dei ragazzi che partecipa con il cuore, con determinazione e mette in pratica quelli che sono i propri talenti e le proprie competenze, tutti nello stesso percorso e al pari, per dare dimostrazione di quanto la valorizzazione delle potenzialità di ogni persona può davvero realizzare progetti straordinari. Mi dispiace tantissimo di non essere qui di persona, perché l'anno scorso per me è stata un'esperienza bellissima. Ragazzi, io ve lo dico, questo è il vostro percorso di studi, è il vostro percorso di vita, è un'esperienza straordinaria, giocatela e diventela davvero al fianco e l'uno con l'altro, perché nella vita aiutarti, di essere attenti ai bisogni dell'altra persona para sempre, perché anche a ognuno di noi può capitare di avere bisogno e di poter contare su altre persone, quindi credo che questa sia la strategia giusta che ha messo in pratica il vostro istituto per guardare al futuro e anche al vostro futuro in un percorso davvero di vita che possa davvero essere inclusivo e di valore, di valore per voi, per il vostro territorio, ma per tutto il nostro paese. Siete in grande orgoglio, io spero di poter tornare presto a farvi visita e di poter trascorrere altro tempo con voi. Siete straordinari, in bocca al lupo a tutti per il concorso, ma davvero un in bocca al lupo per la vostra vita. A tutti. Bene, grazie, grazie a tutti per aver venuto comunque a lasciare il tuo saluto, come avete ascoltato, in effetti l'anno scorso era qui, si è divertita tra l'altro con i ragazzi, ha anche fatto le degustazioni, non so se chi di voi c'era ricorda perfettamente. Allora, è giunto il momento, a questo punto prima di presentarvi la nostra giuria, di presentarvi la nostra giuria, di presentarvi la nostra giuria.